Musica 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 Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Porky e oggi siamo tornati qui su Fresh Team Racing Nella scorsa parte abbiamo fatto No No, 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 aspetta, aspetta Abbiamo fatto Le mini del drago, oggi invece Ne ho avanti Ok Già vedo perché Già vedo un brillio lì Ok Vale Popolare Trevina Ok Fa passare il Sto fratello E' stato col titolo Dalle tre amiche fuoche Ok Ok Che mi supera adesso verrà Esentralmente fatto fuori Ah Non mi spera nessuno eh Va bene Prendiamo che la pomoda Non mi spera tanto Tanto non mi spera nessuno Sono una passeggiata Oh 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 Prendi Yuhuuu Wow Wow Mino non mi stare davanti A vole Yep Even Dat Oh Oh Now No, mannaggia! Meno male che ha coltito l'amino! Ah! Dove sta andando aggiungendo? Non avete seguito a nulla Polar! C'è dato lo stesso! Ora le tengo a dare! Complimenti! Hai vinto un trofeo! Bene ragazzi! Io direi che per questa parte questo è tutto! Spero che il video vi sia piaciuto! E ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!